Hai fatto una fotografia molto nitida di quello che è lo scenario attuale, fotografia meno nitida invece per, e lo abbiamo sentito anche nella prima sessione, per quanto riguarda le regole. Quindi mi viene spontaneo chiedere a Rita Ciccone, direttore regolatorio e legale di Alitalia. Quali sono queste regole poco chiare o comunque deficitarie che deve fronteggiare una compagnia aerea nazionale come l'Alitalia e quali istanze un player così importante per il mercato aereo italiano, intende sostenere per, diciamo, ripulire anche i cieli? È una domanda estremamente interessante, ci vorrebbe molto più tempo, ne abbiamo poco. Ne ha dieci minuti. No, ma poi come Alitalia vedo sempre i miei colleghi sull'ansia della puntualità, quindi cerchiamo di recuperare sempre anche il tempo perso non a casa nostra. Quindi su questo risponderò risponderò alla sua domanda con dei flash, perché inevitabile fare questo, quindi disciplina e mercato, e quindi direi regole e concorrenza, perché il punto è proprio questo. In che modo le regole che abbiamo consentono un corretto operare ai vari operatori. L'anno scorso la Commissione ha fatto, adottato, il libro bianco integrato sul trasporto, trasporto complessivamente considerato. E questo libro bianco si prefigge uno sviluppo integrato e sostenibile. Oggi noi ci chiediamo molto come possa essere questo sviluppo sostenibile nella situazione in cui siamo. E quindi ci chiediamo in che modo le regole aiutano oggi una corretta concorrenza. La prima cosa che noi chiediamo è ovviamente una parità di trattamento rispetto ai diversi modelli di business. Quindi noi abbiamo operatori di tipo diverso, occorre che ci sia un'assoluta parità di trattamento. Io non mi dilungo sul fenomeno ovviamente delle low cost, se ne è parlato, si è detto tutte le cose che non vanno, diciamo, che consentono agli operatori o a un tipo di modello low cost di avere una serie di vantaggi e comunque di non rispettare le stesse regole che rispettano gli operatori tradizionali. Quindi questo è un dato assolutamente fondamentale per la sostenibilità del trasporto aereo e per la sostenibilità dei vettori tradizionali che anche uno studio recente ha dimostrato se eliminiamo ci sono una serie di danni perché poi non tutte le rotte saranno esercite e con una serie di conseguenze. Per cui quello che volevo dire soltanto rispetto a ciò che è stato detto stamattina sul fenomeno è che su un punto limitato c'è stato un passo avanti perché il 22 maggio scorso è stato adottato un regolamento a livello comunitario che per quanto riguarda gli oneri previdenziali quindi la sicurezza sociale impone ai vettori di pagare questi oneri quindi di essere assoggettati alla normativa dello Stato in cui hanno la base di servizio e definisce questa base di servizio in modo diverso da come era fatto finora per cui una compagnia che appunto va avanti e indietro sul territorio nazionale italiano nella specie non può sottrarsi alle regole italiane questo almeno per quanto riguarda diciamo la sicurezza sociale quindi gli oneri previdenziali. Io direi però che c'è di più e che forse bisogna anche avere il coraggio di applicare in modo diverso un certo tipo di regole perché c'è una giurisprudenza della Corte di Giustizia che dovrebbe essere comunque sicuramente nota agli addetti ai lavori in base alla quale la libertà di prestazione dei servizi per carità è sacrosanta ed è ciò su cui questa tipologia di vettori si fonda per esercire su un altro territorio però la libertà di prestazione dei servizi non può e non deve essere utilizzata in modo strumentale cioè non è che io utilizzo la libertà di prestazione dei servizi per sottrarmi alle regole di quello Stato cosa che succede spesso con questo tipo di vettori quindi il punto è che già oggi questo modello potrebbe essere colpito e potrebbe essere tenuto a sottostare alla legislazione nazionale dello Stato in cui opera proprio perché è una situazione come dire è un abuso del diritto cioè ci si serve della libertà di prestazione dei servizi per fare qualcosa che altrimenti non sarebbe ammissibile e quindi qui sta anche un po' in campo nazionale a utilizzare certi strumenti a farli valere quindi questo sulle low cost. L'altro punto è quindi mi riallaccio all'intervento di prima di regole di cui noi sentiamo il bisogno e tanto più sentiamo il bisogno quando la commissione ci dice che ormai scatta l'ora di un sistema integrato e in questo paper ci dice anche che fino a 500 chilometri di distanza addirittura ritiene che il treno sia più efficiente allora se così è poniamoci il problema della parità di trattamento tra i diversi metodi di trasporto tra i diversi mezzi di trasporto e quindi la prima cosa che viene in mente a maggior ragione dopo questo intervento è il treno ed il treno ad alta velocità. È innegabile che almeno su alcune tratte già oggi quindi non dobbiamo aspettare la realizzazione del libro bianco è chiaramente alternativo il treno all'aereo ma se andiamo a vedere le regole abbiamo una parità di trattamento tra treno e aereo? A livello di concorrenza, vabbè, diciamo il treno almeno in Italia adesso la concorrenza comincia nasce, però magari non è colpa di nessuno, è stato liberalizzato dopo il settore aereo meglio i vettori perché non il sistema aeroportuale è stato liberalizzato un bel po' di anni fa ma le infrastrutture, oggi si è parlato tanto di aeroporti e quindi di come fare, non ci sono i passeggeri eccetera ma il finanziamento delle infrastrutture, ci vogliamo chiedere qual è la differenza tra aereo e treno? Noi e i nostri utenti finanziamo completamente le infrastrutture qualche volta le finanziamo pure quando non le utilizziamo e mi sia consentita questa battuta sul contratto di programma a Milano ha utilizzato una tariffa di sistema quindi questo significa che chi opera su Linate paga anche l'investimento di Malpensa in realtà a Linate questo investimento non c'è stato però chi va su Linate paga l'investimento fatto a Malpensa questi un po' sono i famosi contratti, i tre di cui si parlava, i contratti in deroga abbiamo poi l'ipotesi Venezia che è ancora sul tavolo dove i passeggeri di Treviso sono stati utilizzati al solo scopo di pervenire al numero sufficiente per applicare la deroga e potrà sembrare assurdo ma a oggi i vettori aerei non sanno esattamente quali sono le deroghe cioè è stato approvato, si stanno approvando i contratti in deroga ma l'interlocutore che finanzia oltretutto non sa qual è la deroga che si sta applicando e quindi in quel caso si sommano i passeggeri per cui per carità Venezia ha fatto gli investimenti eccetera ma si sommano solo per applicare la deroga dopodiché a Treviso non c'è il contratto in deroga quindi tutta la parte finisce su Venezia quindi questo è un altro dato quindi infrastrutture finanziate da noi nel caso delle ferrovie il finanziamento è ancora tutto molto statale quindi questa è una circostanza di cui non possiamo non tener conto quando parliamo di parità di trattamento perché magari in Europa secondo uno studio proprio dell'Unione Europea 73 miliardi di euro all'anno sono il finanziamento dello Stato sul ferroviario, sull'infrastruttura e quindi liberalizzazione, infrastrutture, costi di sicurezza io credo che sia un'altra anomalia perché poi anche quando sono sul biglietto li pagano i passeggeri è evidente che questo influisce sulla domanda del trasporto aereo quindi i costi di sicurezza allora a prescindere dalla logica che sull'aereo rispetto al viaggiare in aereo c'è bisogno di alcune misure di sicurezza e non rispetto al viaggiare in treno purtroppo storia anche recente ci dimostra che così non è però diciamo in aeroporto noi facciamo le code facciamo addirittura lo scanner tutto e poi ci sono i relativi costi tutto ciò non c'è evidentemente in quello che è un competitor assoluto su alcune tratte per non parlare poi dei diritti dei passeggeri poi ci saranno le relazioni dei associazioni dei consumatori però è un dato di fatto che se io con un aereo faccio non so, Reggio Calabria-Rome a Roma succede qualcosa è chiuso lo spazio aereo il vettore aereo di riferimento mi prende, mi coccola mi paga l'albergo fino a che non posso ripartire mi paga da mangiare, da bere il fax, la telefonata tutti i giorni fino a quando non posso ripartire se invece io ho un problema analogo in treno cioè arrivo alla stazione Roma Termini e lì mi fermo per tre giorni perché la ferrovia è bloccata io semplicemente mi arrangio quindi la problematica anche dei diritti dei passeggeri c'è sotto questo profilo e quindi anche di questo bisogna a mio avviso assolutamente tener conto perché non possiamo parlare allora di parità di sistema integrato di mezzi alternativi di trasporto e poi trattarli in maniera così diversificata da ultimo un brevissimo flash perché voglio appunto mantenere la promessa di essere molto breve sulla comparazione diciamo con nazionale internazionale globale in assoluto ovviamente questo è un settore ed è un business che le regole dovrebbero essere globali e quindi ci spaventa un po' quello che sta succedendo negli ultimi tempi quello che è successo con l'ETS e quello che almeno sulla carta sta succedendo con la revisione del regolamento sugli slot ci si chiede di passare in Europa come titolarità degli slot da 80-20 a 85-15 quindi di perdere flessibilità ma a livello ICAO e quindi per tutto il resto del mondo la situazione rimane firma a 80-20 quindi noi chiediamo alle nostre istanze nazionali ovviamente e a livello comunitario che problemi di tipo globale siano affrontati globalmente perché non è possibile in questo modo penalizzare l'Europa o in alcuni casi penalizzare diciamo il sistema Italia come talvolta avviene con scelte si è parlato molto adesso di malpensa però la cosiddetta salva malpensa alla fine penalizza il sistema italiano perché ci sono vettori stranieri che hanno delle possibilità che gli italiani non hanno cioè non esiste la reciprocità per cui in questo modo di proseguire noi riteniamo che ci fa diciamo abbastanza abbastanza male l'altra cosa evitiamo l'over regulation noi abbiamo bisogno ovviamente di regole ma che sono regole chiare armonizzate di safety di security anche di ambiente di standard minimi di qualità e quant'altro ma non un un susseguirsi di regole adesso la commissione vuole vedere 2 se 1 chissà cosa verrà fuori adesso si sta parlando c'è già una proposta di un regolamento per la protezione in caso di insolvenza dei vettori ebbene sì ci sono vettori che negli ultimi tempi cadono come birilli e quindi si dice beh bisogna proteggere il consumatore sacrosanto proteggiamo il consumatore in che modo facendo sicuramente un fondo in cui tutti i vettori dovranno dare un tot perché così quando il passeggero rimane a terra c'è qualcuno che si occupa di lui e viene diciamo risarcito per il danno che subisce però forse a monte bisogna chiedersi perché le compagnie aere falliscano qual è il dimensionamento minimo delle compagnie aere e quindi su scala nazionale forse bisogna rifare un ragionamento soprattutto in stati come quello italiano dove la torta dimostra che gli interlocutori sono tanti e che si va sempre più verso una certa direzione quindi parità di trattamento tra operatori quale che sia il modello di business parità di trattamento fra i diversi mezzi di trasporto e una omogenizzazione delle regole a livello nazionale europeo e internazionale perché solo questo secondo me può realmente rendere sostenibile l'industria del trasporto aereo grazie 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 che si è adeguata sostanzialmente ai miglioramenti nei tassi di puntualità dell'Alitalia quindi evidentemente si è tenuto grazie grazie grazie